mani vi bacio tutti amore mio ciao 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 scusate allora ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa innanzitutto per per farvi un grandissimo in bocca al lupo perché siete alla fine quante volte ne abbiamo parlato di questo momento e da qui dopo tanto dopo tanto vissuto ci siete arrivati ci siamo arrivati insieme e dovete essere solo fieri di tutto questo quindi ci tengo in particolar modo a dare tutto con tutto il mio cuore il mio affetto più grande soprattutto ad alcuni in particolar modo e poi a dirvi che che resto con voi perché sono anch'io con voi in finale sì state lì state lì state lì come siamo lì soleil soleil budget sì ciao sherry ascolta ti conosco e ci conosciamo troppo bene questi discorsi del del tubo piacciono a me piacciono personalmente pochissimo ci stavo arrivando vabbè allora se veniamo al sodo devo prima farli riscaldare un po con il scherzetto giusto che rendo un solo finale paura paura paura